UfficioPostale.it è l'Italia che cambia le cose positive e quelle meno positive, andremo a lavorare su gli aspetti che possono avere delle correzioni sicuramente c'è rammarico, ripeto, per come si era messa e continueremo come siamo abituati a lavorare per migliorarci. Devo rivedere la partita perché poi viverla da dentro è diverso, sicuramente Monterosi si è alzato e diciamo che in queste partite, in squadre dove ci sono magari, chiamiamole così, meno pressioni si prova quando si va sotto a giocare con maggior coraggio sicuramente noi, ripeto, bisogna guardare e lo faremo in settimana quello che potevamo far meglio per cercare di di arginare quello che ha fatto il Monterosi. Sinestamente, con tutta sincerità, ora è veramente molto presto per guardare la partita, per guardare la classifica. andiamo e lavoriamo partita dopo partita perché è importante adesso avere un'identità e arrivare al risultato con un'identità ben precisa, una mentalità vincente. Lavoriamo tutti i giorni per questo, poi a fine anno tireremo una riga e vedremo dove saremmo stato in grado di arrivare.